C'erano i compagni di scuola con le t-shirt con su stampata la foto dell'amico che non c'è più. C'erano gli amici di gioco, c'erano tutti ieri pomeriggio e funerali di Nuccio Iraci, 15 anni, deceduto dopo 21 giorni di agonia all'ospedale di Palermo, a seguito delle gravissime ostioni riportate il 23 febbraio scorso, quando fu colpito dalle fiamme che si sono sprigionate mentre stava accendendo, utilizzando una bottiglia di alcol, un bracere. I funerali sono stati celebrati in chiesa madre da Monsignor Grazia Labiso e da Don Luigi Petralia. In prima fila la mamma Giuseppa, il padre Giuseppe, il fratello gemello Bartolomeo e i nonni. Sulla bara bianca del giovane studente della terza A dell'Istituto per Geometri Majorana è stato poggiato un cuscino di rose bianche e poi attorno al feretro tanti altri fiori bianchi. Rimarrai sempre nei nostri cuori, rascritto sulle t-shirt indossate dagli amici. Nuccio, ha detto Monsignor Labiso, non se n'è andato quella mattina in quel letto d'ospedale dove era ricoverato, rimarrà sempre fra noi. Al termine del rito funebre i suoi compagni di scuola hanno fatto volare tanti palloncini bianchi, mentre la mamma abbracciava un cuscino bianco con impressa la foto del figlio.